Ci presenta Con noi MacGyver, l'agente governativo che grazie all'immaginazione e a sangue freddo prestoché illimitati ci e ci salva dalle situazioni più assurde e pericolose costruendo strumenti di vario tipo con gli oggetti reperibili sul posto Da cosa ci salverà oggi? Lo chiediamo Lo chiediamo a lui, scusi MacGyver ci sente, è pronto? Si, vi sento, però soltanto una vi chiedo scusa lì a voi due e come vi chiamate lì? Gianni e Cibotto? Allora, se per favore aspettate un attimo perché sto finendo un'operazione un po' delicata capito? Ecco, allora Ah, è in missione, è in missione? Sì, però non è semplice perché qui c'è tanta sabbia e a volte io non mi oriento non raggiungo l'obiettivo, capito? Ma come, Filippo? Tanta sabbia In che senso sabbia? È una spiaggia Dove si trova? Nel deserto del Sahara? Ma che deserto del Sahara? Qual è spiaggia quell'altro lì? Sono in bagno Sono in bagno Ma scusi, è la sabbia che cavolo c'entra con il bagno? Scusi È perché sto cambiando la sabbietta del mio gatto Aristide Sto togliendo la cacca che ha fatto la cacca siccome sono persone pulite sto cercando di pulire, capito? Ma scusi, ha detto che era una missione pericolosa non vedo dov'è il pericolo le va la cacca Eh ascolti, voi due lì voi non vedete il pericolo però io sento la puzza qui ragazzi questo qui è Napalm questi sono armi di distruzione di massa altro che stupidaggini Eh non diciamo cretinare però dai su No ecco, tra l'altro tra l'altro se vi permettete approfitto del mezzo radiofonico lì radiologico come si chiama A proposito di cretinate Se radio fa buon sangue Il tostapane con le antenne A proposito di cretinate io non so se avete visto in che situazione politica siamo poi finiti Beh sì Conte ha dovuto abbandonare non ce l'ha fatta Sì lo so, lo so infatti se volete fare un po' di cultura la faccio anch'io ci ha scritto un libro anche Calvino su Conte che ha abbandonato Un libro? Quale? Sì sì Come no? Il Bisconte di Mezzato perché praticamente L'ha fatto fuori Ma ci faccio piacere Comunque 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 Adesso è arrivato Draghi e mi ha subito chiesto una mano a me per trovare la maggioranza perché poi mi chiedono tutti a me Anche a tutti i nostri ospiti E quindi se ne occupa lei di questo? Me ne occupo io Io praticamente lì appena lui mi ha chiesto che mi ha telefonato io ho subito chiamato la Valeria Marini Ma perché? Ma perché scusi? Eh no perché siccome io non sento bene che ho l'oreo io sono un eroe non anni 80 io ho 80 anni non sento più mica tanto bene non ho l'orecchio acustico avevo capito che mi avesse chiesto di trovare la maggiorata Ah E allora io ho preso la Marini che in Senato diciamo la Marini come Senato la vedrei bene con quelle insenature lì e anche in camera mi permetta non sarebbe male diciamo che più maggiorata c'era la maggioranza da cercare però ho capito io però quando ho visto la Marini a me mi ha preso una roba che io poi quando capita così mi parte tranquillo 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 io ho fatto io ho fatto il vaccino della Pfizer ci dica ci dica delle cose serie dai su allora io ho fatto il vaccino della Pfizer che sono quelli che fanno anche poi il Viagra diciamo e ora sento proprio il richiamo capito? sì il richiamo del vaccino no 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 io sento proprio il richiamo della foresta avete capito lì qua si sente ululare i lupi mannari avete capito? stiamo sul serio cosa può fare per questo governo lei vabbè guardi allora visto che non possiamo spostarci quindi non posso andare all'URD una cosa che posso fare ci sarebbe ci dica le indicazioni per cortesia ma bene allora mi hanno dato il compito di risolvere questa situazione c'è solo una soluzione tutti e due lì uno scrive l'altro tiene il vaccino e prendete appunti allora anche i nostri ascoltatori prendete appunti prendete appunti che è facile dai dai ecco allora signori per risolvere i problemi del governo in Italia si fa così si prende del cartoncino cartoncino due castagne prendete due castagne del pesto senza aglio mi raccomando tre mattoni e un martello ecco qua perfetto e poi e poi devo dire proprio tutto allora e poi poi si strappa il cartoncino si buttano via le castagne si usa il pesto per fare la pasta i mattoni per fare un muro e via e beh scusi manca il martello scusi e ci botto il martello ce lo diamo forte forte sui maroni dalla mattina alla sera vedi che lei ha trovato sempre la soluzione il grande MacGyver Giampiero Perone è con noi ciao a tutti ciao sempre le tue invenzioni sono sempre bellissime e il tuo MacGyver diventa sempre di più un personaggio